Soprattutto in questo periodo Covid ci siamo resi conto che gli anziani stando più a casa, più tempo a casa, sono diventati oggetto e bersaglio di questa truffa. E anche in questo vogliamo dare una risposta concreta al bisogno degli anziani che c'era stato detto. Dicevo prima anche in conferenza stampa che un po' c'era anche il dispiacere di vedere questi anziani che a volte non denunciano neanche perché si sentono anche impotenti, anche si vergognano di fronte ai familiari e ai figli che magari hanno detto non aprire mai agli estranei. Quindi in questo diamo anche un supporto successivo anche a chi è vittima della truffa. Logicamente ricordiamoci e diciamolo sempre che principalmente la cosa più importante è denunciare immediatamente l'accaduto alle forze di polizia. La prima azione del progetto è un'azione di campagna informativa e formativa rivolta agli anziani a cui parteciperà la Guardia di Finanza e la Questura di Pescara per dare informazione agli anziani rispetto alla casistica di truffe presenti sul territorio per aiutare l'anziano a tutelarsi rispetto a questo fenomeno. La seconda azione è lo sportello itinerante, lo sportello aperto con un operatore dell'ACLI che a cui è affidato il progetto che sarà aperto presso ogni centro sociale e che è collegato a un numero verde. E l'ultima azione invece è il condominio solidale dove ci sarà la partecipazione e il coinvolgimento degli amministratori di condominio di quei condomini dove sono presenti maggiormente gli anziani. Le ACLI da sempre hanno nella loro mission proprio quello di dare voce ai soggetti più fragili, in particolare gli anziani che sono i soggetti più vulnerabili. Quindi in questo momento particolarmente insidioso di varie crisi, non solo quella economica ma anche pandemica e di guerra, le reti sociali possono dare un supporto a queste persone che rappresentano proprio la vulnerabilità.